Ma pure la rai se la ci metteva. Beh, vai vai. Invece mo' è... E' scusivo no, quindi per di tutto. Ah, che chiuso. Sì, ma se passiamo secondo Gerona è proprio così? Sì, la nuova. No, la terza partita esce. Dopo un giro. No, ma mi ha scopato. Eh, quindi... Ti ricordi in Correa? Che finisci a Correa? Vabbè, ma l'ha fatto... Ciao Pieselloni, ciao! Molto, molerni. Non puoi andare a marciare a 15,5 volte la notte, e quando cazzo è 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 la notte, non mi prendi la notte. Se veniva per una, dà un simentario. Ma... 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 non ti chiede a te, non ti chiede a te, non ti chiede a te, non ti chiede a te. No, 15 minuti quando hai tempo, è un... supplementario, quindi c'è qui. Non recupero 15 minuti, non puoi andare a te, che è praticamente... Che dolce. La di baci. Altro tromba amico. 5 minuti, un po' di baci. Non ho fatto tempo, per l'opera. E' un'altra metà, non c'è la mia presa. Ma io ho già parlato, ma con il filo se ti ne, non puoi farci. Noi sono tutti i ragazzi. E' un po' di baci. 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 Scusa. E' un po' di baci. 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 Cav a livello madre乜 c'è dicono il taci se il giro la parca del corso 15 minuti ma anche la mia la mia la mia la mia la mia la mia e ieri la mia ma anche per me la mia la mia la mia la mia L'unico degli altri oddienti, che io proprio, lo dico ancora adesso, io non ci giocavo neanche un centesimo, insomma era adesso, e ci faccio i nostri che, invece quando fanno fattati il D-Mondiale, per il suo gol, siamo andati, per il suo rigore abbiamo il D-Mondiale. Noi abbiamo unito, come dico, proprio a spicciolo, a bricciolo, ma comunque la vera finale che per me è stata...